sono le 13 e 40 del 16 febbraio 2023 abbiamo fatto circa 40 minuti di ascesa ascesa per chi non lo sa è salita comincia ad esserci la neve il mio amico gianni de rosa prosegue con un passo felpato cadenzato a ritmo continuo io ho molta esperienza è vero sono classi 1955 altrettanto vero che gianni de rosa e classe 1950 quindi a cinque anni di vantaggio nei miei confronti io ricevisco le sue esperienze e oro per me